Bentornati, proseguiamo oggi dopo aver visto Shadow Catcher nella lezione precedente andando a vedere quali sono i render passes che ci vengono dati a disposizione da Blender. Il prossimo elemento si chiama Debug Sample Count e serve per darci una immagine in bianco e nero che ci indica pixel per pixel quali sono i valori di sample utilizzati per produrre l'immagine. Per poter visualizzare questo tipo di immagine dobbiamo però assicurarci di aver abilitato l'opzione Noise Threshold prima di lanciare il rendering. Subito dopo abbiamo un interessante gruppo di connettori chiamati Crypto. Abbiamo Crypto Object, 00, 01, 02, Crypto Material e Crypto Asset. Proviamo a selezionare il primo, vediamo che è un'immagine a tinte piatte così come anche il Crypto Material e Crypto Asset. Come avrete già intuito queste immagini ci consentono di isolare gli oggetti in base al nome dell'oggetto stesso, al nome del materiale o al nome dell'asset. Vedremo adesso come utilizzare queste informazioni. Prima di proseguire andiamo a suddividere l'Image Editor in due finestre separate. Nella prima finestra andremo a visualizzare il Render Result che è l'output in uscita del nodo Composite. Nella finestra destra invece andiamo a indicare Viewer Node. Fino alla versione 2.92 di Blender si utilizzavano tutti questi connettori per poter utilizzare ogni singola silhouette degli oggetti utilizzando tutta una serie di nodi. A partire dalla 2.93 è invece stato messo a disposizione un nuovo nodo che rende la gestione di queste informazioni molto più semplice. Andiamo a inserirlo con Shift-A, andiamo su Search e cerchiamo Crypto e vediamo che ci compare CryptoMath. Selezioniamolo e andiamo a metterlo per il momento scollegato da tutto. Andiamo a connettere il Reroute al Viewer in modo da vedere l'immagine risultante. Dopodiché andiamo a inserire CryptoMath tra il Reroute, praticamente dalla sorgente immagine dell'input, e il nodo Viewer. Quello che ne risulta è un'immagine completamente nera, perché in questo momento CryptoMath non sa che cosa vogliamo ottenere dall'immagine in uscita dal render. Grazie alla Dawn Node Wrangler, come abbiamo già visto nelle lezioni precedenti, abbiamo la possibilità di tenere premuti i tasti Ctrl e Shift e di fare clic per andare a vedere in automatico l'anteprima dell'uscita da un nodo. Nel nodo CryptoMath, ogni volta che facciamo clic tenendo premuto Shift e Ctrl, andiamo a modificare l'input Image, Matte e Pic. Rimaniamo su Image. Andiamo a chiedere, per esempio, di poter scegliere quale oggetto visualizzare in uscita dalla nostra immagine. Facciamo clic su Più, ci compare un contagocce. Dopodiché possiamo andare nell'immagine che vediamo qui in basso e selezionare l'oggetto che vogliamo isolare. Vedete che quando spostiamo il contagocce ci viene mostrato il nome dell'oggetto, che può essere molto utile quando abbiamo molti oggetti contemporaneamente. Selezioniamo, per esempio, il primo vaso, quello verde. Ecco che con un semplice clic abbiamo isolato dall'intera immagine del rendering l'oggetto verde. Facciamo clic di nuovo sul pulsante Più e andiamo a selezionare, per esempio, anche il vaso rosso e ancora cliccando sul tasto Più il vaso blu. Ecco quindi che grazie alla selezione degli singoli oggetti, con un semplice clic possiamo indicare a Blender che cosa vogliamo vedere. Analizziamo meglio insieme questo nodo. Abbiamo la possibilità di scegliere Render o Image. Render si usa, come in questo caso, quando abbiamo come input le informazioni dal render finale della nostra scena. Image invece si utilizza quando vogliamo utilizzare un'immagine esterna, un file di tipo EXR, in cui abbiamo salvato i singoli layer per poterlo utilizzare successivamente. Vedremo poi magari più avanti come effettuare questa operazione. Poi abbiamo il menu in cui possiamo selezionare da quale scena vogliamo andare a prendere la nostra maschera. In questo caso abbiamo una sola scena e quindi lasciamo tutto così com'è. Sotto invece abbiamo il menu che ci permette di scegliere tra i tre gruppi crypto che abbiamo visto poco fa. Crypto Object, Crypto Asset o Crypto Material. Abbiamo adesso utilizzato Crypto Object, andiamo a vedere Crypto Material. È sparito tutto perché non abbiamo ancora selezionato nulla in base al materiale. Facciamo clic su Più e andiamo a selezionare per esempio il materiale di questo cubo che abbiamo chiamato Emission. Facciamo clic di nuovo sul tasto Più e andiamo a selezionare per esempio il vaso verde. Vediamo esattamente lo stesso risultato che avremmo avuto selezionando l'oggetto vaso verde. Però così facendo andiamo a selezionare tutti gli oggetti che hanno questo materiale. Mentre prima siamo andati a selezionare il singolo oggetto di cui avevamo bisogno. Andiamo a vedere cosa succede a utilizzare invece l'informazione Matte. Vedete che abbiamo proprio la maschera in uscita. Questa qui è proprio l'informazione che possiamo utilizzare da collegare nei valori Factor dei nodi. E infine abbiamo in uscita il valore Pick. Il valore Pick serve in altre situazioni quando non abbiamo l'image in ingresso. Vedremo più avanti come utilizzarlo. Comunque, Image ci consente di vedere proprio l'uscita, l'immagine scontornata con i soli oggetti o i soli materiali che abbiamo scelto. Matte è la maschera, esattamente quella che avremmo in Gimp o in Photoshop quando utilizziamo la maschera del layer. E quindi vediamo che la selezione è davvero molto semplice, molto veloce. L'uso del terzo gruppo, Crypto Asset, serve invece quando abbiamo più oggetti imparentati tra di loro. Facciamo un esempio veloce. Torniamo nel layout standard. Andiamo a inserire un oggetto di tipo Empty. Ma potete usare qualsiasi altro tipo di oggetto. Questo Empty lo chiamiamo per esempio Asset di prova. Naturalmente potete utilizzare qualsiasi tipo di nome. Andiamo a selezionare i tre vasi. Selezioniamo per ultimo Asset di prova. E con Ctrl-P andiamo ad applicare un vincolo di parentela. Abbiamo già visto questa operazione nel corso base. Ne approfitto anzi per ricordarvi che nel sito BlenderClick.it potete trovare una pagina con il link a tutti gli argomenti di tutti i corsi. Quindi entrando nella pagina potrete utilizzare il semplice sistema di ricerca del browser per andare a cercare singoli argomenti. Quindi se per esempio volete andare a vedere come si utilizza la parentela degli oggetti, non dovete far altro che utilizzare questa pagina di indice. Bene, abbiamo imparentato questi oggetti tra di loro. E adesso dobbiamo però rilanciare il rendering perché giustamente l'asset di prova prima non esisteva. Facciamolo insieme subito. E torniamo nel layout del compositing. A questo punto, una volta selezionato Crypto Asset, abbiamo la possibilità, facendo clic su più, di andare a selezionare per esempio Asset di prova. Vedete che con un solo clic abbiamo selezionato i tre oggetti che abbiamo imparentato all'empty chiamato Asset di prova. Facciamo adesso un esempio veloce di come utilizzare il nodo Crypto Matte per un caso concreto. Cancelliamolo con CTRL X e torniamo alla solita configurazione. Diciamo che vogliamo cambiare il colore del vaso verde. Con Shift A andiamo a inserire un nodo all'interno del gruppo Color, QE Saturation Value. Inseriamolo tra il Reroute e il nodo Viewer. Quindi vediamo che andando a modificare il primo valore possiamo variare il colore della nostra immagine. Noi però vogliamo fare in modo che questa variazione vada a influire esclusivamente sul vaso verde. E' qui che entra in gioco il nodo Crypto Matte. Andiamo a inserirlo con Shift A, facciamo clic su Search, cerchiamo nuovamente Crypto e lo inseriamo. Non importa connetterlo a una sorgente, lo lasciamo scollegato. Andiamo invece a collegare l'uscita Matte al valore FAC. Poi facciamo clic sul tasto più e andiamo a selezionare il nostro oggetto verde. Andiamo a variare quindi adesso il primo valore QE e vediamo che questa variazione di colore influenza esclusivamente il nostro vaso. Vi invito naturalmente a fare quante più prove vi vengono in mente. Ad esempio anziché variare il colore al vaso verde vogliamo andare a variare il colore del vaso centrale. Non dovremo fare altro che premere il tasto meno e selezionare il vaso che era verde per deselezionarlo e quindi fare clic su più e selezionare il vaso rosso. Tutte queste nozioni che stiamo imparando in questo corso possono essere effettivamente difficili da memorizzare. Un sistema molto valido è quello di fare tantissime prove. Quindi vi invito davvero a sperimentare, a seguire gli esercizi. Vi ricordo che il contenuto di questa scena che stiamo utilizzando adesso lo potete scaricare dal link che trovate in descrizione. E per chi vuole anche sostenere questo corso vi ricordo che c'è la possibilità di scaricare le dispense che riportano proprio per iscritto tutti questi passaggi. Tutto quello che abbiamo visto in questo corso ci sono anche le dispense del corso base e del corso di modellazione. Ma in particolare le dispense di questo corso riportano appunto questi passaggi e una volta scaricati sono dei pdf normalissimi, li potete stampare e potete anche prendere appunti direttamente su di esse. Quindi se volete anche agevolarvi nello studio di tutte queste nozioni, avere un manuale sotto mano da poter consultare anche quando vi serve proprio quel singolo argomento. Mettete fra sei mesi e avrete bisogno di nuovo di rivedere come si utilizza CryptoMath, potrete o tornare a vedere questo video magari utilizzando sempre l'indice che vi ho fatto vedere nel sito blenderclick.it oppure potete semplicemente prendere fuori le dispense che vi siete stampati oppure che vi siete salvati sul computer e andare a rileggere, rivedere magari anche i vostri appunti e quello che ho scritto per voi. Bene, per questa lezione è tutto, io come sempre vi ringrazio per avermi seguito e ci rivediamo presto.